ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su brawl stars ok facciamo di nuovo sopravvivenza perché questo video rifatto l'altro non usciva quindi gli errori della tecnologia inizio capo gli alberi allora vai al parco e voglia vedere e non mi scassare le scatole guarda per dire una parolaccia ma per fortuna non l'ho detto perché altrimenti mi avrebbero cancellato il canale mi avrebbero parlato e vero e proprio un account femmine esatto quindi le parolacce non saranno tollerate nemmeno nei commenti chi le scrive e chiama la polizia per favore però non scrivete la polizia per favore che vuoi portone sono un nuovo per dir una parolaccia so per dire vai a quel paio vai a fare la pasta vai vai a cucinare la pasta infatti andate qui a fare la pasta a perchè non mi si muove vabbè non dobbiamo urlare con questo canale femmine friend che mi chiami torno su tu chi quello che vorrei avere mortis invece la porta scappo questa è abbastanza una mossa abbastanza quella di scappare con nulla se mi no fa libero nature I like trees no ecco cosa serve bull esatto bull è molto utile e vai tra poco tra due foglie o la cassa eh si ragazzi comunque se sentite un po' l'audio sdoppiato non è colpa mia è colpa dell'audio che non si sente tanto bene non potrò ripararlo quindi si sente abbastanza bene però comunque scusate hello no ok se non è vero io ho trovato il metodo per usare una webcam ma non era una webcam ma non rivediamo i segreti di youtube no a meno che no non c'è teglia non vediamo potete capire effettivamente cosa non c'è teglia mille di danno da lontano ma è forte bullo no 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 mi sono fatto uccidere come una caccia di polo no 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 a ok sono faccio materno mi 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 ma cosa si non 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 ma da qualche mese che che è tipo da un anno no non c'è da un anno non c'è da un anno c'è tipo da da marzo tipo per fare un esempio da marzo quindi per cosa non se di nuovo è la no la super e 8 io 6 e c'è 7 8 9 il 7 i no devo fare l'azione e io provo a cambiare il brawler cosa enorme niente e o e ci credo ho appena trovato semino infatti non c'è niente io uso barrel beh però la prossima soia c'è la mega cassa capito quindi se ho una bottazza di culen ci potrei trovare qualcosa rispetto per i bambini anche rispetto per i bambini esattamente perchè le parolacce i bambini non le vogliono sentire ma comunque per fortuna il bottone è lento ok allora ma quella metterla meglio non per un'altra ecco se non c'è buon pochettino spiace scatta ok ghi ghi sai perchè comunque la super di Beryl non è un bug perchè si va sul fiume? però che altrimenti l'avrebbero già risolta entro 5 minuti quelli di brusa si sono professionisti che succede se faccio così? che succede se faccio così? come mi metto la super qua? ah ok il bottone il bottone grande ma domani io che ti aiuto Beryl è morto più forte perchè non lo scappò? mi sono scappò guarda perchè non ti cura anche a Beryl perchè risca fuori qualche modo cavolo uccido grande eh vabbè dai secondo posto dai devo sconfiggere soltanto un altro nemico sopra dentro il sole e ho vinto cioè ho fatto la missione bene dai siamo pronti e sto per finire i gettoni e sto per finire i gettoni grazie brown stars eh io già ho finito già gli ho finiti che matchmaking lento ok matchmaking si dice lo so nella schermata edizione se vedi in basso a destra c'è una persona che dorme chi è? scendi ah è lui quello non ti vedi tipo un signore con una penna è lui il segno scappa 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 no perchè perchè mi scappa da su grazie a te però robot abbiamo un bottino e scappa 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 perchè mi prende da l'acqua cerco di schivare però non funziona è robot tua ok bene ma ogni robot è sempre più forte no oppure è uguale è uguale uguale ma comunque i robot sono utili perchè tirano le energie 18 di... nice no yo yo oh no vabbè dai non ho filato nessun nemico come? non è vero invece non ho filato questo è pronto adesso non deve uccidere solo uno di nemico ricordate raga io probabilmente farò un video ogni giorno quindi state sempre sintonizzati sul canale quindi faccio un po' come alcuni youtuber che fanno video ogni giorno scuola scopiti per meta sarò sintonizzato anche domani quindi preparatevi via le doppiette dove sei? a pixel dove sei? è pronto ma dai se non mi rompe dai almeno si chiude attacca la mamma scappa 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 no perchè? vabbè scappa scappa e dove scappa? è grande niente perchè comunque niente come? ma è vero hai ucciso qualcuno? ero spawnata hai fatto la missione? dai vabbè ucciderne soltanto un attimo perché in questo video dai si eh vabbè ragazzi questo qua è l'ultimo video cioè l'ultimo si scusate sono solo a pensiero e possiamo dopo questa partita possiamo terminare il video qua quindi ok 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 io praticamente la partita l'ho fatta cioè ho fatto la missione mi dico c'è un leon c'è un camaleon 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 ahah mi piace trollare così ma io sono un tuo alleato non sono un avversario aiuto la coletta o me ne frego entro stasera dai ce la puoi fare vieni ok vieni mi sono fatte visitato per prendere il power up per fortuna non sei morto vai via c'è un leone con un power up guarda che faccia ma domanda la polenta spreca se ancora perchè mi sentiva da super da solo cavolo tanto abbiamo... per te la partita è finita può finire un po' spai di si? vabbè ero obbio eh di si, jellyfish bene bene hai la mission? e che cos'hai? adesso apriamolo ah no davvero non posso ok allora ragazzi dico che oggi potrebbe finire qui e ci vediamo domani per un prossimo video ciao